Se il suo rigore mette timore a chi ha la fanna in cuore, quando nel cuore c'è gioventù non si resiste più. Si va sulla montagna dove la neve il volto ci abbronzerà. L'ardor che ci accompagna come una fiamma il cuore ci riscalderà. Con lo stesso ardore con cui è stato cantato questo famoso brano, oggi andiamo in montagna con un gioco di Scott Almes che è uscito per la serie Wallet della Battonshire nel 2021. Unsurmountable. Devi raggiungere la cima della montagna posizionando le carte in modo da formare un sentiero che dalla base raggiunga appunto la vetta. Semplice no? Vediamo come. Come altri giochi della serie classica Wallet, anche questo Unsurmountable è composto da 18 carte e un regolamento di 8 facciate. Il tuo scopo è creare un sentiero dalla base della montagna fino alla cima, posizionando le carte a formare appunto questa montagna. Ogni turno scegli se aggiungere una carta all'area di gioco fino a formare una piramide con base 4 perché la montagna avrà al massimo 4 carte come base o usare una delle abilità presenti sulle carte stesse. Vinci se completi la montagna, quindi la montagna ha una riga da 4, una da 3, una da 2, una da 1 come indicato su questo diagramma qua e se c'è un sentiero che dalla base arriva fino alla cima oppure perdi se finisci le carte a disposizione. Vediamo queste semplicissime regole un po' più nel dettaglio partendo dal setup. Dai una mescolata ovviamente alle carte e formi una fila di 5 carte che sposto un po' così le vedi tutte. queste formano il campo base. Metti da parte la carta elicottero che è un aiuto che puoi usare one shot quindi lo mettiamo qua e dopodiché inizia la partita scegliendo di usare una di queste 5 carte qui o la prima a sinistra per cominciare a costruire la montagna o aggiungerla agli altri piani della montagna stessa o una delle altre 4 carte scartandola e usando gli effetti e le abilità che sono indicate sulla carta. Se vuoi costruire la montagna la prima carta che giocherai deve andare sulla riga più bassa al piano terra questo che possiamo considerare il piano terra e le successive le aggiungi sempre alla base che non può avere più di 4 carte o su una riga superiore a patto che sia a cavallo di due carte della riga subito sotto. Questo è l'esempio di costruzione che c'è nel regolamento. Gli spazi verdi sono il posto dove puoi piazzare una nuova carta. I sentieri che si formano possono avere diramazioni vicoli ciechi o addirittura non essere assolutamente connessi tra loro tipo questo caso qua. L'importante è che alla fine tu abbia un sentiero che dal lato inferiore di una carta della riga più bassa arrivi senza interruzioni al centro della carta che posizioni sulla cima della montagna piramide. Questo è l'esempio sul regolamento di come può essere costruita la montagna. Come vedi c'è un percorso che parte dalla carta più in basso a destra e che senza interruzioni arriva in centro della carta in alto che è la cima della montagna. Non importa se ci sono sentieri non collegati tra loro che finiscono sul vuoto diciamola così o che toccano bordi di carte senza avere null'altro in comune. Viceversa se vuoi usare un'abilità scarti la carta e segui per intero quello che c'è scritto. Questo è un esempio. Questo è un altro esempio. Se non puoi soddisfare tutti i requisiti sulla carta la scarti comunque ma ignori l'abilità. Le abilità sono di vario tipo e come avrai certamente già intuito ti permettono di riarrangiare le carte del campo base togliere o aggiungere carte alla montagna scambiare di posto o addirittura ruotarle di 180 gradi. Come ultimo step del turno ripristiniamo un attimo il campo base quindi gioco questa per formare la base della montagna come ultimo step del turno stavo dicendo sposti tutte le carte del campo base a sinistra e ne peschi un'altra dal mazzo che posizioni sulla destra fino ad arrivare ad averne 5 quindi se qua c'erano dei puchi spostavi anche questa questa veniva qua e ne pescavi un'altra per arrivare fino a 5 se il mazzo di pesca è finito continui a giocare saltando questo step fino a che o vinci o perdi vinci appunto la partita se hai costruito correttamente la montagna di 10 carte 4 più 3 più 2 più 1 e se c'è il famoso sentiero che dal fondo cioè dal lato più basso della montagna come in questo caso arriva in cima se invece esorisci tutte le carte del campo base prima di raggiungere la cima hai perso quello spiegato nel regolamento è il livello 1 ne vengono proposti altri 4 ognuno dei quali si sovrappone ai precedenti per aumentare progressivamente la difficoltà della partita per esempio il livello 2 ti fa giocare con 4 carte nel campo base o il livello 3 per ogni riga puoi avere uno solo di questi simboli qua che nel livello 1 non tieni conto però se giochi con il livello 3 devi per forza anche applicare gli effetti del livello 2 alla data di uscita di questo video marzo 2022 ci sono due espansioni dual peaks e big climb che puoi anche combinare assieme vediamo big climb aggiunge 6 carte con 2 nuove caratteristiche che ti permettono di costruire una montagna con base 5 easy peasy dual peaks ti obbliga a costruire la montagna con una base di 5 carte ma con 2 cime di 3 carte l'una vedi ognuna delle quali deve avere un sentiero valido separato da quello dell'altra cima se la combini poi con l'espansione big climb la montagna da formare è questa qua questa espansione inoltre aggiunge altre due carte con questa nuova caratteristica grazie per aver guardato questo video alla prossima